L'ospite è perfetto per inaugurare questo nuovo campionato conquistato veramente con le unghie e con i denti. Certo. Anche perché arrivare alla conquista di questo riconoscimento nazionale con interessi nazionali non è stato certamente facile. No, è stato abbastanza complesso, insomma, tra noi, la FGC e il CONI ci sono stati un po' di passaggi di palle, insomma. Però alla fine l'importante è essere riusciti a partire, far partire come tutti i presidenti volevano. Decisamente, tranne qualcuno, ad esempio il Verbano che insomma ha rinunciato, che è stato lasciato alla possibilità comunque di poter scegliere e di mantenere quantomeno la categoria, senza ripescaggi però, quel neo rimasto lì che è rimasto. D'altra parte, se non partecipano all'annualità è corretto che non ci sia l'eventuale ripescaggio, credo che sia da parte appunto, anche per tutelare loro stesse. Decisamente, queste poi sono scelte. Sono scelte, poi sono scelte comunque deliberate dal Consiglio Direttivo come quella di far comunque pagare le quote alle società che non partecipano. Esatto. Perché comunque il mantenimento della categoria comunque secondo noi ha un costo, quindi è giusto che anche loro partecipano alla... Si è cercato una scelta equilibrata. Certo, sì. Per poter salvaguardare un po' tutti gli interessi delle parti in causa. Società, appunto, abbiamo parlato di ristori che sulla carta arriveranno. Domani abbiamo il Consiglio di Presidenza e quindi io oggi finisco di valutare la situazione finanziaria e domani esamineremo alcune proposte come Consiglio di Presidenza che poi porteremo al Consiglio Direttivo del 16 di aprile, dove si parlerà solo e esclusivamente di questo in quel Consiglio. Io sono ottimista, credo, spero di riuscire comunque a intervenire a favore delle nostre SD. Faremo comunque il possibile, possibile. Ristori che riguarderanno un po' tutte le realtà, tutte quante, non solo l'eccellenza che riparte e quindi dovrà... Soprattutto quelle che non ripartono comunque. Esatto, essere sopperita con tamponi perché sappiamo che insomma... Poi ci sono anche le spese, quelle le chiederemo alla FIGICI, al governo, di intervenire a riborsare le quote dei tamponi.